Fai vedere grattaschiena Un quintaglio Un quintaglio utilissimo E' per il gatto E' per il gatto E' per il mio cazzo Beh, il 2016 è stato andato molto percorrente E' stato molto E' stato molto Mixer Cappuccino Cacca Cappuccino E' il cazzo che hai preso sta roba Ma come cazzo è andato E' un po' E' un po' E' un po' E' un po' E' un mixer Cappuccino E' un mixer Cappuccino E' un po' E' un po' E' un po' E' un po' Questo è una scatola Apri? Cosa c'è? Per la spastolina da dentro? No no, la scatola vuota E' un po' E' il portaspazzolino E' un po' Ti rendi conto ragazzi Qui c'è gente che ha dei po' Il po' E' un 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 po' Si può ramfo E' un po' Un po' E' un po' E' un po' E' un po' Tutti giocati E questo però è Cos'è? Ragazzi Ma io voglio le spiegazioni L'ultimo E poi questo qua finale Che è quello serio Quello serio Una scatola vuota Una scatola vuota E dopo non dovresti fare vedere Allora Che cazzo è? Tieni sempre caldo Il tuo freno Lo scalda pacco Molè Ragazzi Anche i colori della Francia Ti rendi corto Ti rendi corto Ti rendi corto Ti rendi corto Scatola apposta Per scatola Bello 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 Augur Ciao 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 Ciao